E ora parliamo della ONLUS fanese l'Africa Chiama per cui la giornata del 2 luglio scorso ha rappresentato una giornata davvero speciale. La moglie del vice presidente degli Stati Uniti d'America Jill Biden ha fatto visita alla scuola Shalom di Losaka in Zambia. Assieme a lei anche la moglie del vice presidente Zambiano e l'ambasciatrice mondiale affari di genere Katrin Russell. Parole di compiacimento da parte della ONLUS che ha commentato. Un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni dato che la nostra scuola è stata l'unica in tutto lo Zambia ad essere visitata dalla delegazione americana.